Un vero e proprio tesoro accumulato grazie agli interrecci mafiosi per gli inquirenti è stato un personaggio di spicco della famiglia Emanuello Di Gela. Lui è Sandro Missuto, 36 anni, imprenditore. Questa mattina gli uomini della DIA, direzione investigativa antimafia di Caltanissetta, diretti dal colonnello Giuseppe Pisano, su richiesta della Corte d'Appello Nissena, hanno eseguito la confisca dei beni. Un tesoro di 25 milioni di euro che adesso passano definitivamente allo Stato. Si tratta delle società ICAM e IGM, di un fabbricato di 5 piani, 2 appartamenti, 3 terreni per complessivi 4 ettari, 63 mezzi, autovetture, autocarri, escavatori, betoniere, 3 conti bancari, 3 auto ed una moto. Le imprese operavano nel settore della produzione, trasporto e fornitura di calcestruzzo, demolizione di edifici e sistemazione del terreno. Le indagini della direzione investigativa antimafia hanno messo in luce un rapporto strategico dimissuto con Cosa Nostra. Il 20 dicembre del 2010, la stessa DIA sequestrò i beni riconducibili a Missuto, dalle indagini emerse che l'uomo, tramite le società sequestrate in quell'occasione, riusciva ad aggiudicarsi numerosi subappalti e contratti di nolo per conto di Cosa Nostra gelese. Missuto nel 2009 era stato arrestato nell'ambito di due operazioni Cerberus e Compendium per associazione mafiosa e estorsioni. Si sarebbe personalmente occupato della messa a posto di alcune imprese appaltatrici. Missuto aveva allargato la propria influenza nella struttura di vertice della mafia a Gela, a seguito della morte del capoclan Daniele Emanuello.